Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Perché la stretta di Francesco sulla messa in letino gli spezzò il cuore, il virgolettato che fa titolo e che forse ci dice qualcosa su uno scontro, un confronto che ancora dobbiamo vedere svolgere e che forse ora che paparazzinger non c'è più potrà svolgersi in una maniera forse anche più aperta tra una chiesa più conservatrice e una chiesa più professista. Sì, naturalmente quello che dice padre Georg dimostra che questa frattura c'è, è consistente e che Benedetto aveva rispetto al nuovo pontefice, a papa Francesco, un'idea della chiesa e dei rapporti interni alla chiesa diversa. D'altra parte Benedetto è il papa della riapertura e del perdono agli efevriani che erano la parte più conservatrice della chiesa. Io penso che però in tutti questi anni Benedetto non abbia mai voluto essere un contropotere, diventare il punto di riferimento di tutta la parte conservatrice della chiesa. Ogni volta che mi è capitato di incontrarlo al monastero la prima questione era sempre c'è solo un papa e la chiesa è uno. Cioè ha cercato sempre di tenere un po' in un angolo quelle pulsioni, li chiamava dei miei tifosi, dei miei fan. Probabilmente l'assenza di Francesco può aprire quella che Massimo Franco ha raccontato come una fase 2 del pontificato in cui invece le spinte di contrasto a Bergoglio, le spinte conservatrici potranno manifestarsi in una maniera molto più diretta e meno mediate dalla personalità di Benedetto che mai aveva voluto questo scontro. Grazie.